Siamo felici oggi di annunciare il primo volo Pisa-Praga che verrà operato dall'aeroporto di Pisa per tutto l'inverno con tre frequenze settimanali. Con questa rotta si amplia ulteriormente l'offerta di rotte e di destinazioni disponibili dall'aeroporto di Pisa per il prossimo inverno con Ryanair. Tantissime destinazioni tra cui scegliere come ad esempio Danzica che è effettivamente un'altra novità per la stagione invernale. Trapani ma anche tantissime capitali europee come ad esempio Madrid, Lisbona, Londra o altre destinazioni per trascorrere una piacevole vacanza al caldo durante l'inverno come Fuerteventura o Marrakesh. Per celebrare il lancio della nuova rotta Pisa-Praga oggi c'è anche un'offerta molto interessante. Abbiamo messo in vendita posti a partire da 9.99 dall'aeroporto di Pisa su tutto il nostro network. Quindi invitiamo tutti i pisani a cogliere questa opportunità, questa offerta e soprattutto li invitiamo a viaggiare con Ryanair e a visitare questa magica città che è appunto Praga.